qual è il tuo soprannome? Il mio soprannome è Walli, un soprannome che ha più di vent'anni risale ai miei anni universitari, me lo diede un compagno di università che fu lasciato dalla fidanzata che si chiamava proprio Valentina e quindi mi disse devo chiamarti con un altro nome altrimenti ci sto troppo male e da lì nacque Walli, era un appassionato di vela e poi capì che mi fece un gran bel compimento. Il tuo supereroe? Allora il mio supereroe se vogliamo parlare di fumetti sicuramente ti direi Wonder Woman perché molto spesso mi sento un po' come lei, mi trasformo da supermanager a supermamma e viceversa quindi rivestendo i diversi ruoli della mia vita mi sento un po' come lei. Poi mi piace tanto anche Capitano America perché penso di avere dei valori comuni come il senso di giustizia, il coraggio e la voglia di libertà. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto ce ne ho diversi, allora di questi tempi bisogna assolutamente avere una visione più ampia del proprio sogno nel cassetto quindi con tutto quello che vediamo in tv mi piacerebbe che tanti temi importanti e rilevanti nel mondo si possano trovare una risoluzione. Se devo pensare a qualcosa di meno universale penso prima di tutto la mia famiglia quindi il sogno nel cassetto di vedere crescere mia figlia felice. Felice non significa senza problemi ma con la capacità di gestire difficoltà della vita e se ti devo dire il mio sogno nel cassetto personale mi piacerebbe che il progetto che ho iniziato ormai 15 anni fa di una diversificazione di business che poi ti racconterò che si chiama Altre Forme diventi un qualcosa che vada oltre il settore in cui opera oggi diventi un po' una sorta di contaminazione. Bill Gates o Jeff Bezos? Ah che domanda difficile mi piacciono tantissimo entrambi mi piacciono tantissimo entrambi hanno due storie importanti per la nostra società perché hanno creato cose che sono utili al nostro quotidiano e farei fatica perché uno mi ha dato la possibilità di comprare tutto quello che mi serve senza dover rinunciare a troppo tempo e che è Amazon e l'altro mi ha dato una linea guida che è stato un punto determinante nella mia vita che è Excel. Mi ha permesso di matematicizzare qualsiasi decisione che non è una cosa da poco quindi non farmi scegliere perché sarei un'ingrata. Mettimi in ordine di importanza queste tre parole fama, soldi e potere. Allora forse al primo posto mettere il potere perché il potere ti dà la possibilità a prescindere dai soldi e dalla fama di agire, di fare delle cose che magari per altri potrebbero essere più difficili per chi non ha il potere. Poi metterei i soldi perché comunque se non hai potere almeno con i soldi qualcosa riesci a fare e per ultimo la fama nel senso che la fama a fine a se stessa mi interessa molto poco. La fama per me è un significato di riconoscenza, di orgoglio se è legata a un contenuto utile, cioè se sei famosi per qualcosa di buono, non proprio perché bisogna essere famosi per forza Nati con la camicia, un podcast prodotto da Dr. Podcast e condotto da Elisabetta Della Croce dell'Unicef Italia e da Massimo Volpe di Richelab. L'ospite di oggi è nata a Lecco nel 1979 da Walter, un ragazzo con la passione per la musica e la matematica e da Maria Teresa, appassionata di cucina di origini toscane. Circondata da un clan familiare numeroso e non lecchese, trascorre un'infanzia felice sul lago di Como. Da polizio scientifico si laurea con l'Ode all'Università Bocconi. Lavora come ghost writer per un libro sull'Alfa Romeo, prima di un periodo nel real estate a Miami, per poi tornare in Italia e lavorare a Milano nella consulenza strategica. Qui incontra Ignazio, che diventerà suo marito. Insieme condividono la passione per il duro lavoro, il divertimento e i viaggi. Nel 2006 entra nell'azienda di famiglia Fontana Group, fondata dal nonno Pietro nel 1956 e leader mondiale nella produzione di carrozzerie in alluminio per auto del settore lusso, fino a diventarne oggi coceo e vicepresidente insieme al fratello Stefano e allo zio Marco. Mamma di una roba di otto anni, di nome Deira, ha fondato Altre Forme, un brand di design in alluminio colorato e wow effect, lo stesso materiale con cui il gruppo di famiglia dà forma alle auto più desiderate del mondo. Il suo motto è preso in prestito da gote. Ciò che è ereditato dai padri, riconquissalo se vuoi possederlo davvero. Oggi a Nati con la camicia diamo il benvenuto a Valentina Fontana. Benvenuta. Ciao, grazie. Benvenuta Valentina, benvenuta. Allora, abbiamo detto che tu sei nata con la camicia, però oggi vogliamo metterti metaforicamente nudo, vogliamo raccontare la Valentina dietro il suo ruolo nell'azienda di famiglia e tutto il percorso che ti ha portato a essere la Valentina di oggi. Con piacere. Oggi direi che possiamo iniziare un po' da quello che ti ha formato, da come ti sei formato in questi anni. Leggendo un po' la tua bio, facendo un po' di chiacchierate, così abbiamo visto insomma che ci sono dei momenti ben specifici che hanno poi definito la persona di oggi. A me per esempio mi ha colpito, avendo un po' tante esperienze internazionali, vivendo tuttora all'estero, mi ha colpito insomma il fatto che a un certo punto ho detto vabbè ragazzi, io vado. Avevi 23 anni? Sì, 23 anni, mi ero laureata da poco, da pochi mesi. E ho detto tutto bene qua, mi piace questa comfort zone, ma ciao. Esatto, bravo, proprio così. E te ne sei andata a Miami. Sì. Preso 23 anni a Miami, una dice, perfetto, perché te ne vai a Miami? Vabbè, io me ne andrei per il sole. Eh, detta così potrebbe sembrare sì, ma pensa che all'epoca non conoscevo quanto bella fosse Miami, non c'ero mai stata e non avevo neanche idea di che cosa mi sarei trovata di fronte. Sono partita dopo la laurea, dopo una prima esperienza appunto come ghostwriter, perché volevo mettermi in gioco, come giustamente hai detto tu, uscire dalla mia comfort zone e soprattutto provare la mia prima esperienza lontana da casa, perché fino a quel momento avevo vissuto con la mia famiglia e sì, effettivamente ho scelto una vita bella distante. Però è stato assolutamente formativo perché, vabbè, non l'ho vissuta come la Miami della vacanza, che possono conoscere tutti. Sono andata a vivere in Brickell Avenue, che è appunto il quartiere della downtown, quindi anche molto distante dalle tentazioni, del divertimento che poi involontariamente ho conosciuto. quindi è stata molto formativa perché mi ha insegnato a cavarmela da sola, lontana da tutti e soprattutto costruirmi una rete di relazioni nuova, di persone internazionali che come me sono partiti per scoprire cose nuove ed imparare. Giusto per contestualizzare, parliamo di una Miami di circa 15 anni fa, quando ancora tutto stava nascendo, cioè downtown non esisteva ancora come riferimento che ho oggi. Art Basel stava nascendo proprio in quel periodo? Sì. E poi anche quello ha influenzato sulla tua… Moltissimo. Stava proprio nascendo in quegli anni e il Design District, che adesso è pool di negozi, boutique, anche della moda, oltre che del design, ed è un posto che tutti visitano, all'epoca era una zona semideserta con qualche coraggioso negozio di design e Craig Robbins che stava iniziando a sviluppare questo bellissimo progetto del Design Miami. Quindi anche la downtown dove abitavo io, Brick Elevenue, era piuttosto semideserta, quindi ero l'unica che camminava a piedi per andare in ufficio, tutti con l'auto anche per fare pochi metri. Sicuramente quando torno oggi dico, magari fosse stata così 15 anni fa, però diciamo che è stata comunque un'esperienza meravigliosa. Mi sorge spontanea la domanda. Hai mai pensato, non torno, mi fermo? L'ho pensato, l'ho desiderato, ma il mio senso del dovere è sempre stato molto più forte del desiderio personale. Quindi poi non è che hanno dovuto convincermi, mi sono autoconvinta che era giusto tornare a casa. Però sarei rimasta volentieri. Lei è vissuta come un'esperienza formativa, ti sei dovuta gestire, hai dovuto gestirti anche economicamente, però la storia della famiglia nel frattempo si stava evolvendo perché la tua è comunque una storia della famiglia molto particolare. Come parte dal tuo nonno? Ce la racconti un po'? Assolutamente. Allora, l'azienda Fontana Group è stata fondata da mio nonno Pietro nel 1956. Inizialmente come officina meccanica di lavorazioni su menuteri metalliche, di tranciatura. Lavorava per il territorio, quindi un'azienda molto piccola, arrivo ad avere massimo 20 persone lavorando appunto per clienti locali. Poi negli anni 70, con l'ingresso della seconda generazione, quindi mio padre Walter, primo genito, e successivamente mio zio Marco, le cose sono cambiate perché loro hanno voluto slacciarsi un po' dal territorio e rivolgersi ad un mercato più internazionale. Quindi hanno iniziato a lavorare per il settore dell'auto, inizialmente costruendo gli stampi che servono le case automobilistiche per stampare i pezzi delle loro carrozzerie. Poi negli anni questa attività, l'ingegnerizzazione, perché anche progettiamo queste strutture, queste attrezzature e la costruzione degli stampi è diventata una parte del nostro lavoro. In particolare negli anni 2000 abbiamo iniziato ad integrarci a valle dei nostri processi e ad inserire anche attività di produzione delle carrozzerie. Quindi non solo vendere un'attrezzatura a casa automobilistica, ma essere proprio noi i produttori dei pezzi di scocca che in gergo termine, in termini tecnici, si chiamano body in white e quindi consegniamo proprio pezzi di carrozzeria alle più importanti case automobilistiche del mondo e essendoci specializzati sul materiale alluminio, i nostri clienti oggi sono quelli del segmento luxury che possono permettersi questo materiale, quindi Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Aston Martin, eccetera. Elisabetta, se io adesso non guardassi Valentina e non ascoltassi penserei ma questa è la storia di un classico ragazzo appassionato di auto, appassionato di design, poi guardo e dico ma questa è una donna che è una cosio di un'azienda che nella mia mente è tutta al maschile. Stavo pensando la stessa cosa, ma tu sei contenta? È quello che pensavi di fare, che avresti pensato e quello che avresti desiderato? Guarda, è una risposta che ti do con molto piacere perché chiaramente è uno spunto di riflessione che ha attraversato tutta la mia vita, nel senso che ho fatto delle scelte che all'epoca non sapevo sarebbero state quelle giuste o no e in determinati momenti del mio percorso probabilmente le ho anche messe molto in discussione. Oggi sono molto molto felice di dirti che ho scelto bene e sono soddisfatta della scelta che ho fatto, non ho stante le innumerevole difficoltà che ho incontrato. Avete giustamente detto che se uno non mi vede pensa a una realtà assolutamente adeguata, a un mondo più maschile ed effettivamente il 95% della popolazione aziendale del nostro gruppo sono uomini perché il settore è un settore piuttosto maschile, quello automobilistico. Per fortuna poi le cose stanno cambiando, quindi negli ultimi anni tante donne hanno iniziato ad avere il desiderio di lavorare anche in fare attività tecniche proprio da noi e quindi stanno aumentando anche le quote rosa, chiamiamole così. Però la mia scelta all'epoca fu una scelta più di dovere, poco ragionata nel senso che non mi chiesi molto cosa voglio fare da grande. Sentivo questo senso di fiducia, questa aspettativa da parte della mia famiglia e io stessa un po', come ti ho detto, il senso del dovere di dare continuità a qualcosa di importante che era stato iniziato da mio nonno. Quindi oggi sono contenta perché il percorso mi ha permesso di imparare, di dare molto di me all'azienda che oggi mi rappresenta tanto e soprattutto anche di esprimermi nelle mie passioni, nelle mie capacità, nelle mie competenze e soprattutto di crescere e imparare tantissimo. Quindi sì, oggi sono contenta ma all'epoca è stato un po' un salto nel buio. Che cosa ha portato Valentina in azienda? Cosa ho portato? Ho portato prima di tutto il grande progetto difficile che si legge anche su tutti i libri delle università che parlano di family business, il progetto di ricambio generazionale. Quindi quando sono arrivata in azienda la stessa era gestita da mio padre come imprenditore, all'epoca erano 200 dipendenti circa. Oggi siamo in 1300, quindi puoi immaginarti che la sfida di questo percorso non è stata soltanto di business, di mercato, di nuovi clienti, ma soprattutto di cambio della cultura. Quindi quando sono arrivata ho capito che mio padre da solo non poteva gestire tutto questo. Nel frattempo eravamo cresciuti anche a livello internazionale, abbiamo aperto plant all'estero in Turchia e Romania e un uomo da solo con tutto questo stress non sarebbe riuscito a cavarsela. E allora le prime cose che ho fatto sono state quelle di fare inserire dei manager dall'esterno, la famosa managerializzazione delle aziende imprenditoriali e creare una cultura diffusa di empowerment affinché ciascuna responsabilità fosse sentita a tutti i livelli e non fosse solo un problema dell'ultimo della fila, che poi era il primo. Però vabbè. Quindi questo è stato il mio più grande contributo credo. Aver inserito le persone giuste al posto giusto e infatti penso di aver sviluppato anche molta capacità di capire chi ho di fronte. Diciamo che il lavoro mi ha anche dato l'opportunità di imparare e sviluppare delle doti, perché sapendo chi hai di fronte riesci anche a scegliere le persone giuste nel contesto in cui devi collocarle. Quindi se devo dire cosa ho fatto di più, poi sicuramente anche il mio metodo di lavoro preso all'università e alle esperienze precedenti di dare una struttura a tutto, parola d'ordine e deadline, ecco questo sicuramente quando la dimensione è così complessa fa la differenza. Non si può più vivere la giornata, quindi anche questo credo di aver dato. Caspita, deve essere interessante lavorare con Valentina. Ricordami Elisabetta che poi la prossima volta intervistiamo anche suo marito. Voglio vedere come bilancia anche con la famiglia perché una così tosta è la bimba. Esatto, lì voglio esserci quando l'intervistate. Bene, ci raccontavi poi che comunque ci sono tante cose che hai imparato e valore che ti ha trasmesso tuo padre. Una cosa che ti è sempre rimasta in testa è il messaggio che un po' ti, magari all'inizio ti toglie tranquillità ma sicuramente ti dà poi la spinta, almeno questo è quello che è stato per te. Ricordati Valentina che l'azienda oggi c'è ma domani potrebbe non esserci. Sì, sono sempre stata cresciuta con questo mantra, cioè di non dare niente per scontato né dal punto di vista lavorativo ma né dal punto di vista della quotidianità. Cioè mio padre era quello che si sedeva a tavole e ci diceva ragazzi come siamo fortunati e noi perché? È successo qualcosa? No, perché abbiamo un bicchiere d'acqua e noi? Ah, sai queste cose sembrano stupidaggini però mio padre ci ha sempre insegnato a non dare mai niente per scontato e a sentirci anche autori del nostro futuro. Quindi diciamo che al momento non la vivevo benissimo perché dicevo insomma papà se possiamo permetterci qualcosa in più perché me lo devi sempre far penare così? Però lui lo ha fatto giustamente adesso anche da mamma lo apprezzo tantissimo. L'ha sempre fatto per educarci ad avere uno stimolo e mi ha sempre detto se io oggi ti do tutto un domani tu perché cosa farai fatica e perché cosa ti metterai in gioco e crescerai e sarai soddisfatta di te. E questo diciamo è un grandissimo valore di cui gli sono grata perché penso che sia anche tra le componenti determinanti della mia propria felicità e del mio equilibrio come persona oggi. Riconosco che tu hai fatto tutto un percorso e a un certo punto ti sei trovata a condividerlo con altre due persone che sono tuo fratello e tuo zio. Stai raccontando del papà ma sono curiosa di sapere invece con loro come va e quali sono le loro caratteristiche che portano in azienda e come vi mixate. Allora la prima cosa che ho imparato all'università studiando proprio anche degli esami abbiamo fatto sul family business è che solo il 15% arriva alla terza generazione. Quindi quando io studiavo dicevo mamma mia ma io riuscirò ad essere quel 15% lì. E ho sempre voluto indagare le ragioni di questo non proseguimento nelle scelte familiari e imprenditoriali. Alla base di tutte queste cose complesse perché sono discorsi molto complessi. C'era sicuramente la non volontà di separare le attività e gli ambiti di competenza. Quindi sicuramente ci ha aiutato molto fare ciascuno di noi quello per cui ha studiato ed è portato. Quindi in azienda siamo tre vicepresidenti che riportano al presidente che è mio padre e ognuno di noi ha delle aree, dei confini piuttosto nitidi su cui lavora e prende decisioni. E sono proprio quelli per cui siamo naturalmente predisposti. Quindi mio zio segue la parte tecnica che è proprio la sua vita, la sua passione. Mio fratello guarda il futuro con l'innovazione, ricerca e sviluppo. Io seguo la quotidianità e l'organizzazione dell'azienda. Siamo comunque una squadra molto affiatata quindi anche i valori che sono alla base della nostra famiglia sono stati fondanti e determinanti nel far sì che si riuscisse a lavorare bene anche di fronte a momenti magari di contrasto dove non tutti eravamo d'accordo ma poi con il rispetto reciproco, il confronto e la fiducia negli altri, ragionando insieme abbiamo sempre trovato delle decisioni di comune accordo. Quindi ritengo che alla base del nostro successo lavorativo ci sia tantissimo di questa nostra capacità di stare bene insieme, di volerci bene e di mettere sempre al primo posto la famiglia prima dell'azienda. Valentina, ovviamente il fatto di essere in un'azienda di famiglia, il fatto di riportare e collaborare con i tuoi familiari ci fa subito pensare a un'altra domanda. Quindi parlate di lavoro anche ai pranzi di Natale? O riuscite a staccare? Perché sappiamo che a volte bisogna darsi delle regole, invece è tutta una passione. E poi un'altra cosa che hai citato, il fatto che parlavi delle terze generazioni. Nel caso di tua figlia arriveremo alla quarta generazione. Pensi che proseguirà? Ci sarà un po' di pressione? La lascerai libera? Insomma, quale pensi sarà futuro sia dell'azienda e sia per tua figlia? Ti rispondo prima alla domanda sul pranzi di Natale. Sicuramente quando siamo a tavola durante una settimana normale, quindi capita di pranzare insieme se è lunedì o martedì o un giorno della settimana, è scontato che si parli di lavoro. Perché non si stacca mai la spina. Quindi quando pranzi stai cercando anche la soluzione al problema di che è una sorta quella mattina stessa e inevitabilmente si condivide. Però, devo dire, siamo anche molto bravi a staccare la spina nei momenti in cui è necessario farlo, che può essere il pranzo della domenica e soprattutto il pranzo di Natale. Devo dirti che siamo una famiglia particolare, nel senso non apparteniamo al classico cliché dell'imprenditore. Secondo me siamo una famiglia dove le nostre caratteristiche personali hanno contribuito molto anche ai risultati dell'azienda. Siamo una famiglia esuberante, siamo persone molto entusiaste che amano divertirsi. Quindi mio padre da giovane faceva il DJ per dirti. E quindi a Natale quello che mette la musica ad alto volume ci fa scatenare tutti. Mio zio Marco è simpaticissimo, ha una simpatia innata, quindi è sempre ricco di aneddoti. Elisabetta ci faceva strappare un invito al pranzo di Natale. Siamo tantissimi, sarete benvenuti. Ci divertiremmo molto. Poi con mio fratello un rapporto speciale, uno dei miei più cari amici, quindi tra di noi non ci sono solo discussioni lavorative o confronti sul tema lavorativo, ma anche personali. Quindi devo dirti sì, si va anche oltre per fortuna. E la risposta, la domanda difficilissima su Deira, quello che posso dirti io è che farò di tutto per lasciarla libera, di scegliere quello che sentirà e non dovrà fare per forza. Anzi, io tutti i giorni cerco di capire quali sono le sue passioni, le sue predisposizioni, che siano nello sport, nelle attività o che siano proprio appunto le sue predisposizioni a scuola. Qualsiasi scelta farà una cosa della mia famiglia porterò avanti che dovrà conquistarsela. Quindi, a prescindere dall'azienda di famiglia, ogni cosa non le sarà regalata, ma dovrà sudarsela con il suo impegno. Chiudo io con un'ultima domanda, in realtà penultima. Proprio collegandomi a Deira, alle generazioni future. Credo che di generazione dopo generazione ci sia sempre più consapevolezza che anche a livello aziendale l'impatto che si ha vada oltre i confini, vada oltre la famiglia, oltre la comunità locale. Tu riconosci questa cosa e come l'affrontate? Cosa sognate e cosa state programmando da qua al futuro? Allora, assolutamente sì. Nel senso che quando sono entrata in azienda pensavo che il mio obiettivo primario fosse quello da buona bocconiana del profitto, quindi far funzionare le cose a livello economico e tutto ciò che quello richiede. Poi, invecchiando, probabilmente la saggezza mi ha portato a riflettere sul ruolo dell'imprenditore in maniera più ampia. E quindi mi sono resa conto che al di là di avere delle responsabilità numeriche finanziarie, l'imprenditore ha anche un ruolo sociale, è un modello, è un riferimento, un esempio per gli altri, una guida e in quanto tale deve anche farsi carico di trasmettere i valori che ritiene essere fondanti per la società. Quindi oggi penso di avere una grande responsabilità in questo, come cerco di concretizzare questa responsabilità? Facendo delle scelte aziendali che guardino molto in questa direzione, ad esempio nell'ambito di quello che oggi si chiama ISG, che non deve essere una mera burocrazia di rispetto dell'ambiente, indicatori sull'inquinamento, emissioni atmosferiche, ma un'attenzione anche ad essere garanti di valori importanti, come ad esempio la diversity. Stiamo lavorando molto su questo in azienda e anche sul welfare, aiutare le nostre persone a prendersi del tempo per fare sport. Abbiamo istituito il gruppo dei Fontana Athletes, che sono appunto una squadra della nostra azienda, i ragazzi della nostra azienda che partecipano a giochi e competizioni sportive, fanno sport insieme e poi credo, e questa cosa ovviamente la sento molto mia, nel valore del merito e quindi cerco di farmi portavoce dell'importanza del merito come riconoscendo le persone di valore, aiutandole a crescere, a fare carriera, ad avere le soddisfazioni appunto che meritano. Dobbiamo concludere, potremmo stare qui molto più tempo, però dobbiamo concludere con questa nostra intervista. Con l'ultima domanda riprendiamo il titolo del podcast. Quindi Valentina, pensi di essere nata con la camicia, sì o no? Ma assolutamente sì, sarei una irriconoscente se non lo dicessi, ma essere nati con la camicia, credimi, non è soltanto, non penso di esserlo soltanto per quello che uno può immaginare, no? Perché sono nata una fede di imprenditori. Per me essere nati con la camicia, nel mio caso, è aver avuto la fortuna e la grande opportunità di crescere e di essere educata da una famiglia con dei valori e quindi a prescindere da quello che si aveva materialmente, ha sempre guardato oltre. E questo mi ha dato grandissima forza, energia, che mi ha permesso poi di raggiungere anche degli obiettivi magari economici e di risultati concreti nell'azienda e fuori. Ma non è mai stata per me la determinante o la guida della mia vita. Quindi sì, mi sento nata con la camicia perché ho avuto questa grande fortuna. Elisabetta, allora non ci resta altro che ringraziare la nostra ospite di oggi del podcast Stannati con la camicia. Valentina, grazie ancora di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per questa bellissima opportunità. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.